Forza, è come una bistecca, puoi utilizzare quell'energia, è come se fosse una bistecca congelata che tu puoi iniziare ad utilizzarla, è chiaro per tutti? Poi comunque è la prima questa di una serie, è la prima di una serie, come si le comprime? Ma l'ho detto, come si le comprime ti prendi una fotografia di quegli eventi, ti vai a rivedere, vai a ricordarti le situazioni, vai a ritirare fuori le emozioni. Comunque, approfondiremo ancora questo concetto, questa live è già durata troppo e ne faremo altre su questa. Comunque, un saluto a tutti e ci vediamo domani. Ciao a tutti, buona serata a tutti, ciao!